Torno subito da voi, mia figlia è tornata per Natale. Sto sistemando le cose di tua madre. A chi non si arrende. Qualche problema? È che sono cresciuto con gli alberi di plastica. Sono contenta che tu sia qui. A chi sa ancora sognare. No, quello non è Bischio, è Agrifoglio. A chi segue sempre il proprio cuore. Per il ciclo Magic Nights, un Natale stellato. Domenica in prima serata, sulla 5.